No, per te vi faccio una cosa Ma come è Rubino? Ma su cosa hai poggiato? Ma cos'è che sta afferrando con così tanta ferocia? E' una persona, sono le gambe di Lele Ma guarda Rubino che afferra Lele Ma guarda che sta per uscire il culo Rubino Vabbè Gischianto Gischianto l'ho fatto mille volte Aspetta un attimo C'è un piano qua sotto Ecco Mi sta grattando il tallone Rubino L'altro viene bruttissimo Oh la Stretching con grattata E via E poi sculacciatina Sculacciatina Lele E via Il content Si Allora facciamo una canzone famosa Mozart No è questa Il tempo Attenzione, attenzione, attenzione Ma niente E poi rimette la mano sull'edre Ma che stai andando fuori? Chi? Il don E poi rimette la mano sull'edre Ma che in personale Il dono E poi rimette la mano sull'edre E poi rimette il E poi rimette la mano sull'edre